Amici 2018 Seconda puntata Oggi, eliminato un allievo dei Blu Amici 2018, anticipazioni Seconda puntata serale, chi sarà eliminato questa sera? Segui la diretta in tempo reale. Questa sera, sabato 14 aprile, nuovo appuntamento in Prime Time, video, con Amici 2018 Amici 2018 Alle 21.15 circa andrà in onda la seconda puntata di questa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, durante la quale scopriremo il nome del secondo concorrente che lascerà la scuola. Noi di Blasting News seguiremo il secondo appuntamento con il serale in diretta minuto per minuto online su questo post, seguiteci in tanti. Tutte le anticipazioni sulla seconda puntata del serale di Amici 2018. Cosa succederà in questa seconda puntata del serale di Amici 2018? Le anticipazioni ufficiali rivelano che anche questa sera la gara sarà divisa in tre fasi, la più corposa sarà la seconda, durante la quale il pubblico da casa con il televoto deciderà chi vincerà le sfide tra i concorrenti schierati. Anche questa settimana non mancheranno gli ospiti musicali, nella prima sfida ci sarà Gianni Morandi, guest star di questo secondo appuntamento con il serale. Nel corso della serata arriverà anche Gali, dominatore delle classifiche con il brano Cara Italia e poi ancora ci sarà Francesco Totti, che commenterà laccesso della Roma alla semifinale di Champions League. Al termine della serata ci sarà l'eliminazione definitiva di uno dei concorrenti in gara, video, la scorsa settimana ad avere la peggio è stato il ballerino Filippo della squadra bianca, cosa succederà questa settimana? Sarà eliminato un concorrente della squadra blu? Lo scopriremo stasera in diretta dalle 21,15. Grazie a tutti!